Grazie a tutti. Per continuare la passione del Judo e continuare a combattere e avere l'opportunità di continuare a gareggiare, passione per questo sport. Bene, in questo torneo internazionale ti abbiamo visto in finale con la francese, è stato un incontro difficile? Beh sì, anche perché verso la fine ho subito un punteggio Yuko, quindi a 30 secondi dalla fine ho dovuto recuperare e sono riuscita ad avere il guizzo giusto e a fare l'ultimo punto Bazzari che mi ha portato in vantaggio, quindi a vincere questo incontro. Quindi fino alla fine è stato molto alla palla. Bene, complimenti per la vittoria di oggi e noi terminiamo con la vantaggio. Insieme Italia, Judo!